vai vai come faccio eh lo dico subito non mi piace come ho cominciato si mi contratta stai guardando qualcuno che già sta in serie B con tutte le riviere e non mi piace eh calzo io li sono suggeriti già ci viste non mi piace va bene prego vado chiedendomi ai foto ditele che pure suggeriti papà hai una pietta e me ne ho spito ora chi stai ma tu sei un pastizio ma tu sei un pastizio e merda che a mano si si andasse a cotto le transizioni quando riparti ti lasciare sul posto viva l'Italia ma fai un uofero e bubè per la cera ma che me guardami qui questo è un strumento anche ma con ricettanza l'Italia che beve che mi è traurì la mia schiera indietro ci vado a me si vado a me si vado a me si attaccò si attaccò si attaccò il mio Milano ah c'è sto calcio ah c'è una mia scuriccia e mi ha sull'altellore perché batte una punizione verso la porta è fuori gioco fuori gioco fuori gioco andrà fuori gioco eeeh come sono felice si attaccò si attaccò si attaccò la settimana scorsa si attaccò ok ragazzi non ho quattro palle ma guarda si attaccò eeeh fadori vuoi tornare indietro 5 all'intervallo eeeh fadori fadori 5 all'intervallo eeeh era tutto buono e non mi aveva come fumo tenne la capo con la mia bocca la bocca i scifi parti maAnda non vengono a dirci non apro si aiuta a giugare, no, perché si sta in quale un pallone io secondo me è meglio che mi fermi al momento di parlare è meglio che ora mi fermi perché ora si va a parlare si ha ricevuto troppe cose Patricco di me che ti vuoi prendere con il senzio un mese fa fornire 1.025 a comprare un asunato di me lo vuoi fare così l'hai visto per questa pagina? attenzione a me che ho cose le camerate e i formaggi le camerate e i formaggi le carattatelle e i formaggi non si spiega cosa a mettere un rimbruncino papà mia che c'ha studiato ecco io voi dovrei mai e papà, ecco i tuoi vieni 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 mamma mia ecco l'ho fatto non è e perci troppo tempo che è sostituzione L'no degno L'ho. vabbè VAAAAAAI Adesso riesco di sbagliare Giles Koh! rosyman scavendo sul palo ancora rosyman poro è la seconda volta quatra scheria salvataggio di Torstenna si è divorato il 2-0 a Napoli ma c'era fuorigioco biglietti capiglia 24 e la sei ora meno anche fuori gioco perché per me cantone tra cocco nel mio gioco mi faccio luce poche roba fredda acquaio a mandare fuori giro vodka che saperebbe il pallone per pairetta cefano qui mi lasciate rigettare peggio e pedaglio quando ballate mancava bello stretto poi lui che ha questa fisicità imponente bello tecnico per me è in vendita personalmente capisco che i calci abbiamo con i calci per me li potete mettere in vendita l'ultimo va a pappavallata va a pappavallata tutto quanto qua non si cucchia, no ma è in vendita per me difficilmente per gli cinque siamo l'ultimo ma è un po' di robotta non c'è la voce la canzone nandè è ancora un rindoce e salà nandè 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 io voglio venire vado politano va a voi nasce ahhhh vado a me vedi la non posso nooo si voleva questa palla a Simeone no ma si serve uno scarico ehhhh ahhhh che cambico si è fatto tutto bene qua tranne la conclusione vedi 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 a 1, ma l'errore di Juan Gesù l'errore tra l'oroso di Juan Gesù ma ne approfitta di un uomo che fa bene alla base stirandosi perché vedi si tocca la borsa ci ha creduto fino alla fine il Cagliari qua una grossa indecisione della difesa del Napoli guarda, guarda Juan Gesù lascia l'imbarziare il pallone non muore mai, soprattutto in casa il Cagliari non segnava da fino a ottobre contro la Salernitana ma come nel calcio deve rimanere in partita fino al triplice fischio qua grande ingenuità da parte di Juan Gesù 30 secondi gli ultimi 30 secondi della partita e Scandolore 30 secondi ma come si fa si fa ma come mi mette e lo vede andare a tutti gli Adanaboli non si spiega si fa si fa si 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 ma pure Politano che ha dato la palla ma pure Zè comunque per me siete traditori siete traditori prima che Gagnari riesci a dare i guaduri che sono i guaduri che noi non possono fare se vuoi si potrà perdere e si è visto proprio oggi cioè Politano ha dato la palla se non ci sono i guaduri ma chi non ci sono i guaduri mi hanno prenduto il gol e io non lo so si 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 siete tutti traditori siete tutti traditori siete tutti traditori gli allenatori non ci azzeccano niente siete qui i calciatori che non siete buono non ci faccio io non ci faccio io non ci faccio non ci faccio è come si fa a pittare con le kill in Serie A andate via da Napoli scappate via da Napoli scappate via da Napoli scappate via da Napoli il tuo sormato ci stiamo rubando pure la partita ci avremmo rubata la partita ma per vero ci avremmo rubata onestamente invece noi non mi parigiate disonestamente perché disonestamente io sono fatto parigiare la partita siete dei disonesti siete disonesti non ci meritate via da Napoli